Il neosindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, dopo la proclamazione ufficiale di venerdì sera, è già al lavoro per varare in tempi brevi la sua prima giunta, che sarà presentata nel Consiglio Comunale che sancirà l'insediamento degli eletti. Lanzara ha già programmato una serie di consultazioni con le forze della maggioranza nei prossimi giorni per chiudere il cerchio sui nomi e valutare possibili proposte da parte delle cinque liste che compongono la coalizione. La scelta degli assessori, e quanto chiarito dallo stesso Lanzara, terrà conto del voto popolare e delle rispettive competenze. Al Partito Democratico, prima lista dello schieramento in termini di consenso, potrebbe andare oltre all'assessorato anche la Presidenza del Consiglio. Un posto in giunta testa invece per le altre quattro liste della coalizione, Energie, Campania Libera, Sveglia e Insieme, esclusa al momento la presenza di tecnici all'interno dell'esecutivo.